Vorrei ritornare un poco indietro con la storia, con il 1969, quando c'è stato uno spartiacque. E' successa una cosa rivoluzionaria nell'Andranghara. Cioè nel 1969, come ogni anno, nel cuore della Spromonte a San Luca, in una vallata, in quell'occasione era a Montalto, si sono riuniti, come si riunivano ogni anno, i capi locali dell'Andranghara di tutto il mondo. Erano circa 170 persone, i capi mafie che venivano dall'America, dall'Australia, dall'Europa. In quell'occasione si è discusso di una cosa molto importante. Si è discusso della unitarietà dell'Andranghara. Ed infatti il mastro generale, colui il quale presiedeva la riunione in questo anfiteatro naturale, dice Qui non c'è più l'Andranghara di Antonio Macri, qui non c'è più l'Andranghara di Domenico Tripodo. Ai più questi nomi non dicono nulla, perché la cinematografia, la letteratura non li ha pubblicizzati, tra virgolette. Ma voi pensate che quando è morto Antonio Macri, nel 1975, sono arrivati cinque voli charter tra Stato Unito e Canada. Oppure quando si è sposata una delle figlie, mia compagna di scuola, c'erano quattro ristoranti occupati. E quando lui è stato ammazzato c'erano 40.000 persone ai funerali. Controllava, gestiva il 90% di una città di Messina, perché la città di Messina non era una città della Sicilia, era una città della Calabria. Controllata dai figli dei capi mafia di Seminara, di Siderno, di Locri, di Gioia Saionica, di Gioia Tauro. Allora, mentre Don Mico Tripodo è stato ucciso nel carcere di Poggio Reale, da due killer, due ergastolani, assoldati da Cutolo, quando ancora Cutolo non era famoso. Era importante Cutolo perché aveva i soldi in carcere, chi ha soldi comanda. Lui paga questi due killer per uccidere Don Mico Tripodo. E poi in cambio di De Stefano, sempre di De Stefano, quelli di quali vi ho parlato in caso all'inizio del suo intervento, gli danno in cambio le regole, le chiavi di decretazione, il codice dell'Andrangheta, per formare la nuova camorra organizzata. Mentre, ad esempio, poi la famiglia Bellocco di Rosarno, nel carcere di Trani, nel supercarcere di Trani, danno le regole ai pugliesi per creare la Sagra Coronita. Quindi vedete quanti danni ha fatto l'Andrangheta, quanto era potente già negli anni 70, e quanto colpevolmente la magistratura, le forze dell'ordine, il potere politico, ma soprattutto quello di governo, hanno sottovalutato l'Andrangheta e non hanno investito nel contrasto dell'Andrangheta. In quell'occasione, quindi, si discute dell'unitarietà dell'Andrangheta. Si esce da quella riunione appunto con l'unitarietà dell'Andrangheta. Ma siccome in quell'occasione c'era stata una soffiata, perché l'Andrangheta di Reggio Calabria voleva che questa riunione, che da sempre, dalle origini, avveniva sempre a San Luca, dice, ma spostiamola a Reggio Calabria, non è che sempre qui a San Luca, ha vinto, diciamo, l'Andrangheta della montagna. Dice, no, è stata sempre fatta qui, la dobbiamo fare qui. Anche i preti del santuario di Pozzi hanno detto, no, si fa a San Luca, perché anche quello era un indotto, e là ci andavano 30-40 mila persone all'anno. È un santuario mariano a cui i calabresi sono devoti, ma soprattutto l'Andrangheta è devota. E la festa si celebra, avviene nella prima settimana di febbraio, il culmine, il 2 settembre, scusate. Allora, l'anno dopo, nel 70, il Presidente Marino, un grande magistrato, Presidente del Tribunale di Nocli, scrive una sentenza e spiega l'unitarietà dell'Andrangheta. L'anno dopo, la Corte d'Appello demolisce questa sentenza. Li condanna, sì, a 3-4 anni, perché chiedeva armi, anche per l'associazione del inquire semplice, ancora non c'era l'associazione di stampo mafioso, però il concetto di unitarietà dell'Andrangheta sparisce. Siamo dovuti arrivare al 2010, con l'operazione crimine, per avere di nuovo una sentenza sull'unitarietà dell'Andrangheta. Quindi immaginate, al 70, al 2010, quanti anni abbiamo perso per codificare l'Andrangheta. Si crea la Santa. La Santa è fondamentale, importante, è la prima dote della società maggiore. Perché è importante la Santa? Perché ad ogni Andrangheta, in origine, solo nei locali più importanti, ci poteva essere un santista. Sino a quel momento, per quanto riguarda le dote della società minore, c'erano i santi protettori, per il Picciotto San Michele Arcangelo, Santa Nunzia, Santa Liberata, per la dote della Camorra e la dote dello Sgarro. Quindi sempre santi protettori, a protezione. Nel 70, con la creazione della Santa, non abbiamo più santi protettori, ma personaggi eccessi del risorgimento, come Mazzini, Garibaldi, Cavour. Cosa avevano in comune Mazzini, Garibaldi, Cavour? Erano dei massori. Quindi l'Andranghetista, con la Santa, ha la possibilità di entrare a far parte della massoria. Noi, per comodità, parliamo di massonaria deviata. Così nessuno ci può denunciare. E così facciamo ragionamenti tranquilli. Cosa poteva fare un santista? Un santista poteva fare due cose importanti. Uno, poteva fare il denatore. Cioè, sembra una bestemmia. Cioè, noi parliamo, quando parliamo di indrangheta, di mafia, parliamo di omertà, di odio verso gli sbirri, verso la magistratura, che sono infami, eccetera. Invece, guardate l'Andrangheta quanto pensa, quanto sono furbi. Ogni locale di indrangheta aveva un informatore ufficiale che teneva i contatti con le forze dell'ordine. Questo gli consentiva di usare spesso le forze dell'ordine come termoregolatore per togliere i sassoni delle scarpe o per risolvere i problemi. Facciamo un esempio. Mettiamo il caso in cui in un paese c'erano dei disordini, c'erano dei giovani con la testa calda che sparavano a serrande, bruciavano macchine, eccetera. E il capo locale ha due possibilità. O li uccide, li fa uccidere, però fa rumore, oppure si rivolge e va dal comandante, il comandante che si dice, eh, buongiorno, come state? E dice, ma ormai non si capisce niente in questo paese, ormai non c'è più niente, non c'è più indrangheta, non ci sono più regole, ormai ci sono questi giovani con la testa calda. Dice, sapete, ho visto, vedete se vi può servire, gli ho visto un appunto di colore blu con sta targa, vedete se serve, gli dai filo d'Arianna. Anche perché in quel periodo voi immaginate un tenente colonnello che deve diventare colonnello, che va in avanzamento. E a telefono da Roma, interrogazioni parlamentari, i giornali scrivono, quindi bisogna risolvere questo problema. Nella sua testa pacata, il londranghetista pensa di essere poi in credito con le forze dell'ordine, quindi dopo 4-5 mesi si arrestano le persone, brillante operazione, ne parlo di giornali, quindi i giornalisti ci guadagnano prima, durante e dopo. Il magistrato ha fatto la brillante operazione, le forze dell'ordine sono sotto il problema, quindi tiriamo un sospiro di sollievo, l'opinione pubblica è scontenta. Il mafioso pensa e dice poi se mi serve un passaporto, mi serve un qualcosa, uno scontro in una missione di prevenzione. Ma la cosa importante per cui, la cosa importante per cui è stata creata la Santa, è la possibilità di partecipare alle riunioni delle loggie massoniche deviate. Perché? Perché lì ha contatti con medici, ingegneri, avvocati, con forza dell'ordine. Anzi, un paio di collaboratori di giustizia ci hanno detto che in certe loggie massoniche c'erano degli incappucciati, conosciuti solo al capolocale, e tra questi anche dei magistrati. quindi voi capite che potere, che salto di qualità ha fatto l'andrangheta. Ma, ripeto, comunque colpevolmente, hanno sempre considerato l'andrangheta una mafia stracciona, una mafia di serie B o di serie C. Perché l'andrangheta, nel corso dei decenni, tranne qualche errore, tranne qualche sbavatura, ha sempre adottato una filosofia accomodante, ha sempre cercato accordi con l'uomo delle istituzioni, perché è sempre convinta che o in appello o in cassazione uno sconto ci sarebbe stato. Voi pensate, ad esempio, per come sono addestrati gli indranghetisti, la selezione per entrare a far parte dell'andrangheta è molto dura. C'è un tirocinio che dura un anno, un anno e mezzo, e nel corso di questo tirocinio bisogna dimostrare di essere arditi, di essere capaci, un ordine non si discute, vai a mettere una bomba ai carabinieri. Quello non deve dire, ma perché? E' già scartato, è già fuori, se si pone in problema. Poi lo fermeranno durante la strada, però lui intanto è pronto ad andare a mettere la bomba. Perché questo? Perché poi se si rivela un mollaccione, chi lo porta poi, l'andranghetista che lo porta al cospetto del capo locale, ci rimette la pelle. Quindi la struttura dell'andrangheta è quella più dura, più cruda e asciutta rispetto a Camorra, rispetto a Cosa Nostra. Ecco perché, questo è uno dei motivi per i quali l'andrangheta in questo momento è la mafia più forte che ci sia in Europa. Non solo perché è più ricca, poi vedremo con il trapicolo di cocaina, ma anche e soprattutto perché è strutturata militarmente, in modo molto rigido. Infatti, per chi è esperto di carceri, i detenuti in modello nelle carceri italiane sono gli andrangheta, sono gli andrangheta, cioè sono quelli che non ricevono mai i precedenti disciplinari, sono anche il più grosso, più grosso è il mafioso, più fa l'inchino al comandante, buongiorno comandante, come state? Sono ossequiosi. Poi se devono dare uno schiaffo a una della polizia penitenziaria, pagano un disgraziato, gli danno una maglietta, un paio di jeans, ne hanno uno swatch e quelli gli danno lo schiaffo, quindi il povero disgraziato, il morto di fame, non riceve i permessi premio o gli sconti di pena ogni anno, il mafioso esce prima, l'andrangheta esce prima, perché appunto c'è questa durezza. Poi è ovvio che nel corso degli anni c'è stata una grande richiesta entrata a far parte dell'andrangheta, della Santa, e sono create altre doti, come il Vangelo, il Quartino, il Trequartino, il Medaglione, sempre strutture più in alto, sempre cerchi concentrati, sempre di più elite dell'andrangheta. Ora, perché l'andrangheta è stata una rivoluzione? Perché ha consentito di entrare nella stanza dei bottoni. Quindi un'andrangheta che non è scontenta più di costruire l'opera pubblica, ma di decidere se l'opera pubblica deve essere costruita e dove deve essere costruita. Cioè amministrare la cosa pubblica, cogestire la cosa pubblica. Questo è il grande salto di qualità dell'andrangheta, attraverso la Santa. Quindi una partecipazione diretta con la pubblica amministrazione. E allora, di cosa è che si interessa l'andrangheta? L'andrangheta sono molto bravi nella cementificazione, nella lavorazione del calcestruzzo. Ad esempio, in Calabria, il 99% delle fiumare sono controllate dall'andrangheta, direttamente, attraverso prestanomi. Tutti i silos, il 99% dei silos sono da l'andrangheta. E quindi forniscono dagli inerti fino al calcestruzzo tutta l'edilizia pubblica o privata. E quindi, soprattutto, quando l'edilizia è pubblica, forniscono il cemento depotenziato. Noi, ad esempio, abbiamo fatto, mi è capitato di fare un'indagine in una galleria dove il cemento, anziché al 400%, era al 150%. Questo vuol dire acqua e terra. Le fondamenti erano 7 metri più corti. Il solaio era 7 centimetri più stretto. E hanno risparmiato anche sulle giunture dei prefabbricati dei ponti. E non hanno fatto nemmeno i canali di scolo nella pancia della galleria. Quindi questa galleria è sempre a molla e cade sempre acqua. O prima o poi ci cadrà addosso. E l'andrangheta è molto brava. Ma questo non lo ha fatto solo in Calabria. Lo fa da decenni nel centro nord Italia. E quando l'andrangheta ormai è in Piemonte dal 75. Subito dopo le condanne fatte al clan dei catanesi l'andrangheta ha occupato il Piemonte, ha occupato la Lombardia. Ci sono decine e decine di locali di indrangheta. Da almeno 30 anni l'andrangheta anche se è in Macchia di Lopardo è in Emilia Romagna. Da anni è qui anche se è in Macchia di Lopardo in Umbria. Allora l'andrangheta quando è arrivata nel nord Italia ha offerto agli imprenditori del nord prestazioni d'opera. E ovviamente è risibile quando l'imprenditore del nord dice che non sapeva che quello era un imprenditore mafioso. Ma come fai a non sapere? se tu sei la terza generazione della impresa edile della tua impresa edile e il cemento è sempre costato a 100 e ti arriva un altro e ti dice che il cemento te lo dà a 60 una domanda te la sei fatta. Se lui ti offre mano d'opera col 40% di sconto ma tu capisci che quegli operai non saranno pagati o saranno sottopagati o non sono assicurati quando tu hai uno smaltimento dei rifiuti con un ribasso del 50% rispetto ai prezzi di mercato in tutta la provincia di Reggio Emilia o tutta la provincia di Milano o di Como come fai poi a sostenere che tu non sapevi che ero un imprenditore mafioso? E' ovvio l'imprenditore dranghetista non è parla esattamente come noi veste come noi mangia come noi ha le stesse è perfettamente integrato come noi però tu imprenditore capisci sai bene che quelli non sono prezzi di mercato legale ma sono prezzi di mercato illegale e nel mondo dell'edilizia l'andrangheta e la camorra sono dominanti nel campo delle opere pubbliche nel centro nord Italia sul piano giudiziario non c'è grande opera mi diceva il professor in caso la TAB l'alta velocità i terremoti non ne parliamo poi della Salerno Reggio Calabria e lì ci sono sempre le mafie e una specializzazione dell'andrangheta il calcestruzzo la cementificazione è stata anche all'expo e ha costruito anche la piastra quella più importante perché i controlli avvenivano per subappalti da 600 mila euro in su e le mafie lavoravano sotto soldi hanno lavorato sotto soldi emerge da intercessioni ambientali questo dato e per questo caso velocemente vi ha accennato alla forma più più rozza più semplice di riciclaggio quella dei supermercati perché l'andrangheta ha il quasi monopolio dell'impostazione di cocaina non esiste una forma nessuna forma tra lecita e lecita maggiore di arricchimento e il problema dell'elite dell'andrangheta cioè noi quando quando io e il professor Nicarso vi parliamo noi abbiamo in testa il 5% degli indrangheta tutti gli altri sono gli utili idioti portatori di acqua a questo 5% al pozzo del capo locale quindi un capo locale c'è uno che gestisce l'importazione di 2.000 poi se c'è tempo e ve ne avete voglia vi posso anche spiegare come avviene il traffico di droga e come arriva in Europa vi gestisce il 5% gestisce l'importazione di 2.000 3.000 chili 5.000 chili di cocaina per volta dalla Colombia dalla Bolivia dal Peru il problema poi di questo capo mafia qual è? è quello di giustificare la ricchezza non è più quello di arricchirsi ormai è ricco voi immaginate fisicamente è un esempio concreto noi abbiamo delle intercessazioni dove il marito torna a casa stanco all'alba e dice alla moglie sono stanco morto tutta stanotte con due macchinette abbiamo contato soldi e non siamo riusciti a finire di contarli perché dovevano contare i soldi per mandarli in Spagna con un camion per pagare la cocaina che era arrivata che era giunta e allora facciamo un esempio mettete il caso in cui dietro questa porta dietro questa parete c'è una stanza piena di euro come fa a riciclare? immaginate questa stanza immaginate sia un negozio di elettrodomestici spesso l'andrangheta da circa 30 anni gestisce anche fa anche usura prima l'usura veniva considerata disonorevole perché si abusava dei bisogni della gente come esempio l'andrangheta non fa prostituzione non gestisce il reato di prostituzione lo tollera ad esempio nell'alto Ionio Cosentino ad esempio dagli albanesi però in cambio poi li utilizza per il trasporto della marihuana dall'Albania ma voi immaginate un imprenditore un imprenditore che il negozio va male è un negozio di elettrodomestici il negozio va male il negozio deve essere lui ci sono già due stanze di fallimento della cancelleria fallimentare lui è in dubbio che facciamo fallire già i parenti non gli danno più soldi le banche hanno chiuso i rubinetti perché hanno capito che non si legge più sul piano economico lui è un bivio fallire o rivolgersi agli usurai ovviamente io consiglio sempre di fallire se tu fallisci hai la possibilità di ricominciare da zero se tu ti rivolgi agli usurai perdi tutto facciamo un esempio mettiamo il caso in cui lui va dagli usurai e chiede 100.000 euro nell'arco di 2-3 ore lui ha 100.000 euro guardate che più è mafioso meno bisogno di garanzia il genere ad esempio l'usura che fanno gli impiegati anche dei dipendenti di banca che fanno usura e si fanno fare assegni in bianco scritture private per la gestione di una casa di un terreno l'usuraio mafioso non ha bisogno di garanzia perché la sua forza di intimidazione e il fatto che lui sa di rischiare la pelle i soldi non li perderà e allora si rivolge agli usurai dopo un paio di mesi lui si rende conto che non riesce a pagare nemmeno gli interessi usurai quindi incominciano l'usuraio incomincia a fargli pressione l'usuraio mafioso entra al negozio gli prende un televisore un frigorifero e se lo porta lo fa strattonare dopo un'agonia di un anno o due gli spara alla sarranda gli brucia la macchina ma non gli brucia il negozio perché quando si brucia il negozio non è usura è un altro perché il negozio è la garanzia del pagamento del debito quindi l'imprenditore gli sparano le sarrande il giorno dopo l'articolo sul giornale colpi di pistola contro il negozio eccetera vanno a dare solidarietà tutti gli amici e i parenti va anche un dranghetista e gli dice buongiorno come state purtroppo mi è successa questa cosa ma mi dispiace io mi ricordo di quando eravate il bambino questo negozio ce l'aveva vostro nonno ce l'aveva vostro padre ora come sono permesso a fare questa cosa il commerciante si apre magari dice ma io ho bisogno io lo voglio vendere non ce la faccio più andare avanti e questo saggio gli dice guardate ma c'ho una nipote che è fidanzata con un bravo ragazzo lo potremmo sistemare vorremmo vedere sistemare se ci mettiamo d'accordo lo potrei comprare lo potremmo comprare magari in sostanza gli fanno una finta compraventa dal notaio in realtà poi questi soldi li dovrà restituire e spesso il proprietario del negozio diventa dipendente dello stesso negozio nel rapporto usurario ma prima di arrivare a questo dato nel corso di questi due anni ci saranno ci saranno telefonate anonime a casa minacceranno la moglie chiameranno scientificamente quando il merito è fuori così risponde la moglie o i figli e quindi terrorizzeranno tutti perché la moglie e i figli possano odiare il padre vedendolo come un fallito vedendolo come un pugile suonato quindi lui non solo perderà il negozio ma perderà anche l'amore e la stima della moglie e dei figli cambio di gestione il negozio diventerà luccicante bello e c'è una bella commessa che batterà scontrini e allora come vi diceva Nicaso da questo momento cosa fanno cosa fa l'imprenditore si rivolge ad una società ad una che fa false fatturazioni quindi se io ho comprato dalla fabbrica questo telefono 100 euro gli faccio un ricarico del 25% e tolta la luce la tassa sulla spazzatura lo stipendio della commessa che formalmente guadagnerà 1200 euro di fatto dovrà restituire in contanti 400-500 euro al proprietario del negozio quindi da questo 25% togliamo il 1.2% che abbiamo detto la luce la spazzatura dello stipendio resta al netto 23% quindi tutto ciò che io compro con questo 23% di guadagno nessuna misura di prevenzione nessun accertamento della guardia di finanza me lo potrà togliere perché effettivamente ho venduto il telefono e ho guadagnato al netto 23 euro quindi io posso giustificare se ho comprato qualcosa con questi 23 euro allora voi immaginate anziché comprare 100 telefonini io ho comprato tra virgolette con false fatturazioni 1000 telefonini io avrò tante volte 23-23-23 quindi quella cassa diventerà uno scontrinificio e quindi io poi posso giustificare l'appartamento a Perugia per mio figlio che è all'università posso giustificare la barca posso giustificare il sub da 80.000 euro ma ragionando ancora in grande voi immaginate un'area di 40-50 km di 50 km quadrati dove già ci sono 4 supermercati a un certo punto l'andrangheta decide di costruire il quinto supermercato lo costruisce spesso prestandosi i soldi da una finanziaria e la finanziaria sarà sempre del nord preferibilmente lombarda che non ha bisogno di molte garanzie si costruisce questo supermercato che costa mediamente 4-5 milioni di euro e i mafiosi badate che hanno sempre i conti in rosso i loro conti quelli intestati a loro appena questo supermercato viene costruito e va a regime come vi diceva in caso lo stesso prodotto del primo secondo terzo e quarto supermercato lo stesso prodotto lo venderà a un punto in meno quindi la massaia non creandosi un problema etico sapendo che questo supermercato è dell'andrangheta farà 30 km e andrà con la sua panda a riempire la macchina di spesa a fine settimana perché lì persona migliore il primo il secondo il terzo e quarto supermercato incominceranno ad andare in crisi perché le bocche da mangiare sono sempre quelle che sono nei 50 km quadrati sempre 200.000 persone sono le che devono mangiare e quindi il primo il secondo il terzo e quarto incominceranno a licenziare persone e a chiudere le parti il quinto supermercato va a gonfio e vele ma la cosa che si può notare è che questi supermercati hanno sempre 25 casse 20 casse ma aperte sono sempre 2, 3, 4 non di più allora uno dice ma guarda che scemi ma è possibile che prima di costruire questo mercato hanno fatto indagine di mercato per capire la popolazione il consumo il livello economico per capire che tipologie di prodotti portare se prodotti di marca o meno dopo 5-6 anni da un'intercettazione ambientale dalle dichiarazioni di 1-2 collaboratori di giustizia emerge che quel supermercato è stato costruito con i soldi della cocaina a quel punto si interviene si fa un sequestro una misura di prevenzione e si sequestra e viene nominato un amministratore giudiziario nel momento in cui viene nominato l'amministratore giudiziario il tubo catodico i soldi che da quella stanza venivano portati nella cassa per emergere la luce del sole coperti dalla fatturazione dal falso dallo scontrinificio si taglia il cortone americano non ci sarà più a quel punto il quinto supermercato dovrà reggersi sulle sue gambe e allora la massaia che dice ma se la pasta ora mi costa come costa lì al supermercato sotto casa mia io che le faccio fare 30 km scendo sotto e mi compro la pasta quando non ne ho bisogno quindi il quinto supermercato incomincerà a fallire ad andare in crisi incomincerà una lenta agonia perché il quinto supermercato è un'anomalia del mercato perché già bastavano quei 4 supermercati dopo un'agonia di questo quinto supermercato il supermercato chiude allora il popolo che dice avete visto quando c'era l'andrangheta lavoravano 100 padri di famiglia arriva lo Stato e questi 100 padri di famiglia sono sulla strada perché il popolo non ricorda che 6 anni prima il primo il secondo il terzo e il quarto avevano già licenziato perché il consumo è sempre quello le persone che si devono vestire sono sempre 200 mila le persone che devono mangiare sempre 200 mila non è che sono in più quindi la distribuzione veniva prima per 4 in quote più o meno uguali poi c'era quasi un monopolio del quinto supermercato perché vendeva meno andava a gonfie vele e questa è la forma più rosa di riciclaggio ma l'andrangheta è presente ovunque anche nel mondo nel mondo degli appalti perché ragiona per macro aria si deve costruire in quel paese si deve costruire un mattatoio in questa una scuola in questa un ospedale in questa si deve fare un impianto di illuminazione i capi mafia si riuniscono in un una sera a cena si riuniscono in un in uno studio di un architetto e discutono io da tanto che non ho lavoro questo me lo giudico io no io ho bisogno in questo momento questo lo voglio fare io chi ha la forza più in campo si mettono d'accordo su chi deve vincere quindi sarà concordata l'offerta in modo tale che vinca cioè sul piano formale se voi andate se noi andiamo in un ufficio tecnico al comune a prendere gli atti la gara è perfetta perché l'accordo viene prima mettiamo però il caso in cui vince per sbaglio una società di Modena una società di Bologna e quindi al secondo posto è la società dell'Andrangheta che aveva partecipato e dice ma che è successo? Allora l'imprenditore ha due chance ha due possibilità uno scende giù accetta di rimanere formalmente vincitore della gara di fatto il cemento calcestruzzo per agli non lo ha freddo non lo ha caldo glielo fornisce l'Andrangheta e lui si prenderà la piccola percentuale oppure può scrivere una bella lettera al sindaco dice caro sindaco siccome non mi sono reso conto delle spese perché io la mia sede principale ce l'ho a Bologna non ce la faccio rinuncio alla giudicazione di queste gara e per incanto viene raggiudicato al secondo ingratatorio quindi nel mondo dell'edilizia non c'è scampo non ce n'è per nessuno l'Andrangheta ovviamente vota e fa votare l'Andrangheta non è mai l'opposizione e il sistema elettorale attuale soprattutto per i comuni danno maggiore forza alle mafie le mafie sono sempre una minoranza rispetto anche nei paesi più alti di stanza mafiosa le mafie sono una minoranza però sono una minoranza organizzata mentre noi viaggiamo in ordine sparso soprattutto i medionari i calabresi poi non ne parliamo grandi individualisti invece gli indrangheta sono come tanti soldatini il capo mafia dice fa sapere che lui voterà per la lista A tutti gli indrangheta voteranno per la lista A basta che il candidato si prende il caffè nel bar principale con il capo mafia quello è il segnale che il capo mafia appoggerà quella lista quindi il capo mafia controllerà il 20% dei voti il 15% dei voti ma basta spostare quel 15% a destra o a sinistra concorrerà a decidere chi sarà il sindaco nel momento in cui noi andiamo a nel momento in cui noi andiamo poi ad amministrare il comune l'andrangheta è facilitata involontariamente dalla Bassanini perché la Bassanini cosa ha fatto ha abolito il coreco ad esempio il comitato regionale di controllo che era un piccolo paracadute per i sindici onesti e per bene perché quando il sindaco subiva pressioni su una delibera e il sindaco dice è inutile che la facciamo stata libera tanto il coreco ce la boccia oggi non c'è più nemmeno quello con la Bassanini c'è la possibilità di scegliere il tecnico comunale e quindi il tecnico comunale è alla merce del sindaco ma se il capo mafia è a concorso alla nomine del sindaco concorrerà anche alla cogestione del comune e quindi male che vada un capo mafia che ha lavorato ai fianchi un latifondista e che aveva un bel latifondo alla periferia del paese e per quattro soldi lo ha comprato male che vada il capo mafia farà cambiare il piano regolatore e dirà che quella zona agricola dove si può costruire mezzo metro cubo ogni metro quadro diventerà edificabile quindi ogni metro quadro due metri e mezzo cubo e quindi faremo una bella serie di villette a schiera che poi venderemo oppure grandi brogli che si fanno nei lavori di sommorgenza c'è una frana di 10 metri cubi noi scriviamo che la frana è di 100 metri cubi e la ditta che il camere e la ruspa i camere e le ruspe saranno sempre ditte di riferimento del capo mafia vi ha accennato il professore Nicaso che l'andrangheta ha il quasi monopolio dell'importazione di cocaina in Europa perché negli anni negli anni 80 c'era la stagione dei sequestri di persona e quindi con quei soldi oltre al dato al fatto che il capo macchia si è costruito la villetta si è comprata la macchia di lusso allora le misure di prevenzione non erano evolute come sono oggi ha incominciato a intercettare il nuovo cambio di usi costume e consumi in Italia e in Europa c'è un'omologazione dei gusti cioè negli anni 70 esisteva la destra esisteva la sinistra se io avessi chiesto quale cantautore ti piace se uno mi avessi detto vecchione era di sinistra e mezzo battista era di destra se io avessi detto tutti i droghi sì cosa usi eroina era di sinistra cocaina era di destra poi cos'è accaduto è accaduto un'omologazione ideologica e anche un'omologazione dei consumi e anche un'omologazione dei consumi di massa passando alla cocaina che è diventata droga di massa e l'andrangheta ha intercettato ma è lontano il discorso ma penso che voi lo sappiate cioè questa omologazione di gusti lo hanno creato e incentivato le multinazionali attraverso la televisione attraverso le trasmissioni televisive uguali in 4, 5, 6 paesi contemporaneamente d'Europa cambiava solo il presentatore e la lingua e all'interno di queste trasmissioni televisive c'era la stessa pubblicità delle scarpe della maglietta della macchina e se tu non compravi quel target di cose non eri accettato eri uno sfigato quando è arrivata c'è stata anche questa omologazione di consumo di cocaina l'andrangheta era già pronta anche perché Cosa Nostra iniziava ad essere in difficoltà perché Rina ha iniziato con la follia dello stragismo e quello è stato l'inizio della fine di Cosa Nostra Rina un pazzo una persona che era presso delirio di unipotenza pensava di poter dettare la gente allo Stato quindi lo Stato si è concentrato su Cosa Nostra si è concentrato sulla Sicilia colpevolmente trascurando il contrasto all'andrangheta l'andrangheta ha intercettato questo business della cocaina e ha mandato in Sud America dei broker a vivere lì gente che è vissuta lì si è sposata figli e l'obiettivo di questi broker era comprare cocaina al prezzo più basso e noi il prezzo più basso che abbiamo sentito è stato di 1200 euro al chilo con un principio attivo del 98-99% cosa abbiamo visto nel corso di questi decenni abbiamo visto un'andrangheta che aveva rapporti anche con gli terroristi con le AUC con le FARC comprava cocaina con produceva la cocaina con le AUC e con le FARC le AUC di ispirazione i paramilitari di destra le FARC di ispirazione ministra marxista ora formalmente il terrorismo non esiste più in Colombia di fatto le AUC erano 20.000 ora 10.000 di questi continuano a produrre cocaina in questo momento questo anno è stato dato il Nobel per la pace al presidente della Repubblica colombiana perché ha fatto la pace con le FARC di fatto per fortuna i cittadini colombiani hanno bocciato il referendum hanno detto che non sono contraria alla pacificazione perché il prezzo era troppo alto voi pensate che in 71 anni di guerra sono morte 250.000 persone c'è gente che ha ucciso 300-400 persone e nell'accordo bilaterale garante la famiglia Castro a Cuba questi non volevano farsi un giorno di carcere hanno consegnato le armi non ammettere se deve sbagliato avere una quota di parlamentari in Parlamento ma soprattutto avere delle zone franche grandi quanto l'Umbria e avere zone franche vuol dire produrre cocaina a regime e fra 8-10 anni saranno più ricchi del governo colombiano questa è l'analisi per sintesi vi sto parlando per flash perché altrimenti facciamo tardi però noi siamo stati quando abbiamo scritto il libro oro bianco col professore di caso siamo stati in questi stati abbiamo girato abbiamo intervistato tutti i ministri di questi stati Colombia Bolivia Perù Brasile e ognuno ci dava dati diversi ognuno ci dava dati diversi e allora abbiamo detto con il caso andiamo all'ONU siamo andati a New York all'ONU per cercare di capire di avere dei dati reali ma quando siamo andati all'ONU mi ricordo eravamo nel novembre 2014 c'era la seduta plenaria e stavano discutendo in quel momento novembre 2014 noi avevamo la Russia che giocava la guerra con l'Europa avevamo la primavera araba avevamo la Siria che era un comune di macerie e quel giorno io dico a Nicasso cosa stanno parlando perché lui parla tante lingue io parlo solo il calabrese e così così l'italiano e lui mi dice stanno parlando della guerra in Bosnia dico ma la guerra in Bosnia non è caduta 14 anni fa e di che discutono oggi all'ONU della guerra in Bosnia quindi abbiamo pensato che è un organismo fuori dal tempo cioè che non sta al momento su quelle che sono le esigenze e i bisogni del mondo perché noi quando abbiamo visto tutti questi dati noi siamo stati anche una settimana con il Presidente nella foresta amazzonica siamo stati ospiti ci siamo dimenticati abbiamo un filmato che abbiamo fatto nella foresta amazzonica siamo stati una settimana in una scuola di addestramento dell'esercito colombiano e andavamo nella foresta amazzonica per vedere le coltivazioni di cana di piante di coca e la lavorazione delle piante di coca mi piacerebbe dirvi come si farvi vedere le piante farvi dire quali sostanze entro magari se c'è qualcuno di voi che ne fa uso di cocaina potrebbe cambiare idea perché perché ridete allora solo io la consumo non ho capito e allora voi immaginate che la ad esempio facciamo una parentesi 5 minuti che mi interessa questa cosa facciamo il caso in cui chiudiamo non ti preoccupare la cocaina la pasta di coca si estrae dalle foglie le foglie sono delle foglie spesse sono 10 tipi di piante di coca quella che produce di più è la boliviana blanca si fanno tre raccolti l'anno allora si raccolgono le foglie e si mettono in una tinozza mentre ad esempio in Peru invece si raspa con una quelle grattugge non c'è moscato non si gratta e usano bambini di 6-7 anni utilizzano 8 anni e poi siccome ci sono gli reggenti chimici questi con i piedi devono fare l'impasto e poi si lancerano i piedi e questi devono continuare a fare l'impasto e non gli danno da mangiare mentre in Colombia utilizzano i decespugliatori quelli per le siepe e frullano queste foglie se l'impasto è molle la prima sostanza che si mette è il cemento da costruzione per indurire l'impasto come le mamme quando l'impasto del pane era molle si metteva farina asciutta quindi questa è la prima sostanza poi ci sono 10 tipi 10 precursori chimici e poi si mette nel gasolio nel chelosene per farlo macerare se non c'è chelosene perché siamo nella foresta amazzonica si raccoglie l'urina del maiale e quindi questa poltiglia si mette nell'urina del maiale per farla macerare quando questa urina quando è ben macerata si estrae si separa dal chelosene o dall'urina e si incominciano i precursori chimici ad esempio si usa l'acetone quello che voi usate per le unghie per togliere lo smatto alle unghie l'acetone è uno dei 10 precursori chimici che vengono utilizzati pensate che la sostanza più innocua che viene utilizzata è l'etere che è uno sbiancante che in natura la cocaina di colore beige usano l'etere come sbiancante perché sia più accattivante perché si pensa che faccia può fare non fa non fa male è bianca non fa male allora ma poi non avete idea quanto inquina produrre cocaina cioè per piantare un ettaro di coca di piante di coca il piante di coca è grande circa alta due metri un arbusto tipo no un piante di noccioline per piantare per piantare un ettaro di coca bisogna disboscare quattro ettari della foresta amazzonica e se non c'è la possibilità di disboscare sapete cosa fanno vanno nella nei villaggi dove ci sono i contadini perché la densità di popolazione è bassissima voi che fate 400-500 km non incontrate una città sono villaggi di 200-300 persone e i contadini ovviamente non se ne vogliono andare perché andarsene da quei campi dove loro vivono solo di agricoltura andarsene da quei campi vuol dire poi ammassarsi attorno alle città attorno alle città dove vivono nelle favelas voi avete visto in televisione cosa sono le favelas sono case senza finestre senza porte senza fognature senza luce e allora loro cercano di resistere e sapete cosa fanno i coccleros vanno prendono una donna la regano a un palo e le cacciano gli occhi con un cucchiaio da viva oppure prendono un bambino una bambina una figlia di due anni gli tagliano la pancia prendono le budelle e imbrattono la faccia alla mamma col sangue con le budelle della figlia della bambina questi sono i coccleros e con questi c'è l'andrangheta che o i terroristi le farc le auk quelli che restano delle farc e delle auk per accapararsi questi terreni questi campi fertili ma poi tutte queste sostanze questi precursori chimici vanno a finire nel terreno e inquinano il terreno dove poi non cresce più niente di lì ci vogliono dieci anni perché poi possa crescere qualcosa perché usano in modo massiccio queste sostanze chimiche e allora noi abbiamo pensato quando eravamo lì con Nicassi voi pensate che siamo arrivati due ore di elicottero abbiamo potuto fare per arrivare in questa scuola di addestramento e non eravamo nemmeno nel centro della foresta amazzonica partendo dall'aeroporto di Bogotà ma quando siamo arrivati lì abbiamo detto ma come fa da non arrivare tonnellate di precursori chimici qui nella foresta amazzonica da dove arrivano? arrivano abbiamo fatto altre ricerche siamo stati in Argentina e abbiamo visto che l'Argentina per le proprie industrie farmaceutiche ha bisogno di un milione e 200 mila tonnellate di precursori chimici ma l'Argentina ne importa 21 milioni di precursori e le altre 19 milioni dovevano finire e poi abbiamo sentito abbiamo parlato abbiamo letto che le industrie farmaceutiche queste multinazionali che sono delle multinazionali molto importanti che vendono prodotti anche in Italia contribuiscono nelle campagne elettorali di presente della Repubblica e perché di converso basterebbe bloccare questi precursori chimici fare l'indagine a ritroso arrivare a questi precursori chimici cioè se per le industrie farmaceutiche hai bisogno di un milione e duecentomila non importi 19 mila ti blocco l'importazione perché sapete perché abbiamo fatto questa ricerca a parte che non volevamo scrivere un libro copiandolo da Wikipedia ma volevamo fare ricerca ma perché noi poi alla fine di questo libro oro bianco abbiamo ci siamo abbiamo fatto un progetto un'idea un'utopia come come sconfiggere la la produzione il traffico la vendita di cocaina è possibile sapete ma è un'utopia è un sogno noi abbiamo detto che la cocaina si produce solo in Colombia Bolivia e Peru allora noi abbiamo pensato con il caso questo se l'organizzazione delle Nazioni Unite fosse un organismo forte fosse un organismo sovranazionale che discorso potrebbe fare l'ONU dire dire siccome la droga è un problema sovranazionale che riguarda in particolare il mondo occidentale perché una persona drogata vuol dire può essere ricattata uno uno stato non può permettersi che le dice di mattina ci sia abbia un popolo intontito i soldi provento del traffico di cocaina drogano il libero mercato drogano la libera concorrenza e con i soldi non si comprano solo alberghi ristoranti pizzeria ma anche pezzi dell'informazione si possono comprare quindi molto pericoloso si possono comprare gli elettori il voto e allora se noi avessimo un ono diverso l'ono cosa dovrebbe dire scendere dal trentesimo piano di new york andare sulla terra rossa della foresta amazzonica e dire a colombia bolivia perù siccome voi non siete riusciti a risolvere il problema a risolvere il problema del traffico di cocaina noi ono scendiamo andiamo dai contadini andiamo dai coccolersi e diciamo se tu quando pianti un ettaro di coca di piante di coca quanto guadagni? 100 e se pianti Gran Turco quanto guadagni? 40 allora noi ono ti diamo il 60% del mancato guadagno però stiamo qui a controllare che tu pianti Gran Turco e non coca e non piante di coca che non possiamo immaginare di darlo ad amministrazioni corrotte che quei soldi non arriverebbero mai i contadini ma questa come vi dicevo è un'utopia perché l'ono è un organismo debole perché i destini del mondo vengono decisi da 4 a 5 stati e decidono in altri posti l'onu tra virgolette viene utilizzato quando serve formalmente il voto il veto altrimenti i destini li decidono altrove non più di 3 4 5 stati nel mondo e però era possibile è possibile risolvervi come anche quello dell'eroina cioè dove le droghe vengono prodotte in determinate parti dello stato del mondo per motivi climatici lì si può risolvere il problema un po' più difficile è quello della marijuana impossibile è quello delle droghe sintetiche perché chiunque di noi può costruire una droga comprando i farmaci da internet quello è impossibile però la cocaina soprattutto sarebbe possibile farla sparire come anche l'eroina l'eroina che ha aumentata tantissimo la produzione perché purtroppo ai noi la guerra in afghani è stata una disgrazia è stata una rovina perché poi alla fine è servita solo da arricchili talebani che nelle dune che nel deserto hanno tonnellate e tonnellate di eroina pronta a farla arrivare in Europa e c'è tanta al punto che l'eroina il prezzo dell'eroina ora è stracciato è a 25 euro al grammo a fronte di 50 euro al grammo della cocaina mediamente non so qui a Perugia quanto è il prezzo qua non sappiamo niente nessuno omertosi pure a Perugia e quindi l'eroina costa talmente poco che ora l'eroina si sniffa non si inietta più in vena ha un effetto più ritardato ma si sniffa e negli ultimi anni abbiamo visto un aumento del 2-3% del consumo di eroina io mi fermerei qui vorrei parlarvi anche della legalizzazione del perché sono contrario a droghe leggere ma è tardissimo e dobbiamo ancora andare in un'altra regione il problema è fermarlo scusate sul piano investigativo possiamo dire che l'andrangheta è interessata alla gestione dell'accoglienza dei migranti è interessata allo sfruttamento dei migranti ad esempio nel campo dell'agricoltura che sono i migranti vengono pagati 20 massimo 30 euro al giorno questo sì però non abbiamo prova dell'andrangheta che si interessa del trasporto di questi migranti come già sapete io mi sono pronunciato su una gestione che a me piace sempre pormi il problema alla radice io ragiono sempre non a valle ma a monte e i migranti arrivano dal centro Africa e quando partono e non c'è un'organizzazione che pensa solo a fargli attraversare il Mediterraneo ma c'è un'organizzazione che gli organizza l'attraversamento del deserto allora io devo andare alla radice del problema la radice del problema è nel centro Africa e mi devo porre due problemi uno sul piano investigativo devo mandare uomini lì devo mandare servizi segreti lì l'Aise per capire quali chi è quali sono le organizzazioni criminali che organizzano l'attraversamento del deserto poi l'Europa la comunità europea gli stati d'Europa devono pensare che con un terzo della spesa rispetto a quanto costa a quanto costano le navi che ci sono nel Mediterraneo a quanto costano i centri di accoglienza in Italia e in Europa dovrebbero inviare intanto fare un progetto non andare in ordine sparso a macchie di leopardo fare un progetto pensando come base il rispetto dei luoghi delle tradizioni degli usi e dei costumi non andare sempre con l'idea del colonizzatore pensando che la cultura occidentale sia la migliore e che noi dobbiamo spiegare agli altri come devono vivere come si devono vestire o come devono ragionare assolutamente saremmo perdenti se noi andiamo col senso di costruire e far guadagnare le nostre imprese far lavorare i nostri tecnici ingegneri architetti e geometri ma andare lì con rispetto della loro cultura non andare con l'idea dei colonizzatori come io ho fatto finora tutti gli stati europei cominciando dalla Francia dall'Inghilterra eccetera dall'Olanda non ci dimentichiamo queste cose allora noi rispettiamo la loro cultura andiamo lì e costruiamo aziende agricole costruiamo scuole ospedali università scuole per infermieri e lì la vita costa un quarto dell'Italia un quarto della Germania un quarto della Francia quindi andiamo lì con un quarto di quello che spendiamo nel contrasto in questo pessimo servizio taxi in Mediterraneo perché un terzo di questi purtroppo muore in Mediterraneo e non sappiamo quanti sono quelli che muoiono al deserto allora andiamo lì a capire e contrastare i criminali che organizzano questi viaggi ma andiamo lì con l'idea di aiutare nel senso nobile del termine anche facendo guadagnare le nostre imprese perché se no l'impresa non può vivere ma vi assicuro che sul piano economico risparmieremmo sul piano della sicurezza non ne parliamo sul piano della vivibilità dell'Europa non ne parliamo e potremmo anche spuntare le armi le ali al terrorismo anche quello interno anche quello fai da te anche quello che si istruisce guardando internet è fondamentale e importante la coerenza di ognuno di noi ognuno di noi deve essere coerente tra ciò che decide e ciò che fa quindi ognuno di noi si deve impegnare nel sociale deve prendere posizione deve indignarsi deve protestare deve contestare mai assuefarsi quindi io sono sempre dell'idea che dobbiamo allenare far pensare ai nostri ragazzi l'idea di non assuefarsi di impegnarsi nel sociale ci mancherebbe altro io dico sempre ai ragazzi dei licei appena fate 18 anni andate a donare il sangue andate negli ospedali a fare compagnie per un quarto d'ora ai vecchi quelli che abbandonate dai figli perché vi aiuta a forgiare il carattere vi aiuta a diventare più forti andate dove c'è il dolore vi serve a crescere e quindi io sono d'accordo lei parlava di associazione antimafia su questo bisogna stare un po' più attenti perché certe volte noi abbiamo incontrato associazione antimafia che hanno fatto un business abbiamo incontrato sul piano giudiziario persone che in nome dell'antimafia hanno preso soldi si sono fatti il giro alla regione a qualche resta della provincia ai comuni e poi con quei soldi hanno comprato cose per casa propria e questo ci fa tornare vent'anni indietro nella lotta alle mafie quindi attenzione cerchiamo intanto di lottare di essere di essere impegnati nel sociale ma di guardare con un attimo di attenzione non basta solo dire urlare o manifestare antimafia non basta essere una bandiera dietro una bandiera riconosciuta da tutti attenzione perché in giro ci sono dei blef mediatici in giro ci possono essere persone che si impegni nella mafia ma che sono grandi furbi quindi continuiamo ad impegnarci intanto a fare bene il nostro lavoro a dare tutto noi stessi in quello che è il nostro lavoro è il nostro lavoro è la nostra funzione impegniamo nel sociale protestiamo contestiamo anche se ci costa fatica perché serve ha un senso un valore si incide comunque un poco anche sulla sulle opinioni pubbliche su chi ha il potere di modificare o di legiferare noi dobbiamo batterci perché ci venga riconosciuto un diritto non perché ci venga perché ci venga dato un favore fatto un favore ecco noi dobbiamo combattere tante di queste logiche per esempio abbiamo parlato poco della corruzione e io dico sempre che il fenomeno della corruzione è un fenomeno culturale dove vivo io tutti quanti puntano l'attenzione e valorizzano la figura dell'uomo che soffia nel fischietto in Italia l'uomo che soffia nel fischietto è l'arbitro perché se vogliamo trovare un'altra parola per tradurre l'equivalente in inglese del whistleblower dobbiamo dire che è un infame una spia un delatore e quindi dobbiamo cominciare dalle scuole a far capire che chi collabora con le forze dell'ordine non è un infame chi collabora con le forze dell'ordine non è uno che è diverso dagli altri e quindi va emarginato e in questo noi diciamo che il problema è culturale e bisogna costruire una nuova generazione di persone disposte a costruire il bene comune cioè noi partiamo da un retaggio quello che ci ha lasciato come patrimonio Gaetano filangeri che la ricerca della felicità che una normativa che secondo la quale tutti i cittadini avevano il diritto di vedere il mare ad una realtà in cui il cemento ha praticamente occupato tutti gli spazi noi non abbiamo parlato molto di ecoreati ma le mafie sono fortemente coinvolte in tantissimi reati che tendono alla distruzione dell'ambiente per non parlare dell'agromafia per non parlare dell'italian sound che adesso è diventato un problema importante l'andrangheta un paio di mesi fa è stata pescata negli Stati Uniti mentre spacciava l'olio di sanza per olio extravergine d'oliva cioè problemi ce ne sono però io dico che tutti questi problemi al di là della tipologia hanno una componente culturale e la componente culturale è la componente che nasce dalla base non dobbiamo pensare che sia un problema di ordine pubblico non dobbiamo dire il nostro problema qual è il peccato la mamma di tutti i peccati è la delega ed è questo quello che noi dobbiamo cercare di eliminare cioè il fatto di dire vabbè spetta agli altri no se ne occupano le forze dell'ordine se ne occupa questo se ne occupa noi dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo cominciare a farlo partendo dalla base il problema della solitudine non c'è noi abbiamo il problema contrario quello di riuscire a stare un'ora da soli e voglio dire c'è molto consenso l'opinione pubblica ci segue abbiamo migliaia migliaia di persone che fanno il tipo per noi e che ci danno tanto affetto in qualsiasi parte andiamo in qualsiasi posto ci troviamo questo ci conforta e ci aiuta ad essere terminati purtroppo ai noi il legislatore non non ha voluto potuto o saputo creare e modificare un sistema giudiziario tale che non sia conveniente delinquere che noi dobbiamo parlare di convenienza non dobbiamo parlare né di etica né di morale saremmo perdenti parliamo di un sistema giudiziario che non sia conveniente delinquere quindi fino a quando non si arriva a questa equazione di non convenienza delinquere continueremo a parlarci addosso noi arrestiamo centinaia e migliaia di indranghettisti di camorristi di uomini di cosa nostra stiamo rallentando la crescita e la potenza delle mafie ma non stiamo vincendo la guerra per vincere la guerra c'è una ricetta di breve periodo che è quella di cambiare la regola del gioco come dicono nei teatri di guerra cambiare la regola di ingaggio nel rispetto della costruzione nel lungo periodo abbiamo bisogno di istruzione di una scuola a tempo pieno abbiamo bisogno di e poi di cultura la cultura viene dopo ma per fare questo è un progetto che dura 10-15 anni e io non riesco a vedere una politica che faccia progetti da qui a 10 anni la politica negli ultimi decenni fa progetti a un anno a 6 mesi un anno e mezzo perché vedi che continuamente siamo non c'è un mese in cui non si parla di elezione o di referendum o di altro quindi purtroppo si vive sempre con l'emergenza sempre come con l'affanno con l'acqua alla gola non si è mai seduti a parlare di programmazione e quindi poi di progetti e poi fase esecutiva per quanto riguarda la seconda domanda lei ha fatto un po' alla Marzullo si è fatta la domanda e si è data la risposta l'unica cosa che posso aggiungere a quello che lei ha detto è che l'anticorruzione come lei giustamente ha detto interviene sui grossi appalti sulle grosse opere ma le grosse opere i grossi appalti sono pochi in Italia il resto è percizzazione e Cantone non ha una struttura in grado di poter far fronte a tutto ciò che accade nell'ambito della pubblica amministrazione nell'ambito delle opere pubbliche e ci vorrebbe un esercito cioè mancano il controllo preventivo lei l'ha detto e noi non abbiamo gli uomini non abbiamo poliziotti carabinieri finanzieri sufficienti per fare questi controlli lei pensi che dieci anni fa quando si faceva un concorso per carabinieri c'erano concorsi ogni anno 4.000 persone 3.000 persone ora si fanno concorsi per mille e grasso che cola che non ci sono i soldi per assumere persone non si riesce a coprire chi va in pensione questa è la situazione in Italia con tutto l'ottimismo del mondo che vogliamo per ora non ci sono i soldi se lei pensi che se domani tutta la polizia giudiziaria che si trova nelle procure dovreste uscire e tornare a lavorare a fare polizia giudiziaria quelli per cui sono stati formati e preparati la procure potrebbe chiudere perché la metà sono impiegati anziani con acciacchi e che non ce la fanno a reggere il ritmo e quindi noi abbiamo brigadieri marescialli carabinieri semplici finanzieri che ci fanno da segretari questa è la verità ora per fortuna si parla di un corso di mille persone ma ce ne mancano cinquemila quindi avremmo bisogno di tante cose contemporanze avremmo bisogno di una rivoluzione ma per fare la rivoluzione ci vuole coraggio non basta il fegato ci vuole anche milza e pancreas ma noi ci siamo posti anche nella commissione che io ho presieduto abbiamo anche affrontato il problema dei rifiuti abbiamo anche pensato a un problema radice abbiamo anche pensato alla tracciabilità ai gps sui camion a ogni a ogni a ogni forma di controllo perché noi col gps col satellite siamo in grado di vedere poi quel camion dove si muove cioè tu non puoi scegliere tu il camion io devo sapere con quale camion trasporta che lo trasporta quindi con un sistema informatizzato è possibile capire dove carichi quando carichi e dove lo porti allora e qui potremmo in questo campo potremmo utilizzare l'oro gli ex forestali oggi carabinieri forestali perché io la cosa che mi sono raccomandato molto anche col generale del 7 è quello di non disperdere questo grande patrimonio che hanno l'oro perché per noi fondamentale è importante perché io tra virgolette li ho utilizzati molto i forestali nella indagine che mi ho fatto anche sull'inquinamento ad esempio noi abbiamo vi faccio un esempio in Calabria non abbiamo industrie quell'inquinamento che c'è inquinamento perché non funziona i depuratori perché per risparmiare cosa fanno di giorno funziona i depuratori la notte quando ci sono controlli spengono i motori e mandano al mare quindi quel tipo di inquinamento abbiamo allora loro avevano un drone avevano un drone dici però l'ANAC non gli mandava la licenza eccetera siamo intervenuti non gli hanno dato la licenza l'estate scorsa il mare più pulito in assoluto della Calabria erano erano alla costa di competenza della procura di Catanzaro perché loro avevano quel compito e lo chiamate avevano il compito per tutti i mesi estivi loro devono stare lì con sto drone che si alzava e si faceva tutta la costa e in questo modo noi abbiamo avuto il mare pulito quindi basta poco per per attrezzarsi contro l'inquinamento anche il problema che è posto l'attracciabilità e e e e la parola e la parola magica è tutto se io faccio l'attracciabilità tu hai finito di giocare tu hai finito di speculare ci mancherebbe quindi è molto importante questo ha fatto bene a dire perché questa è una posizione di coerenza io nel mio piccolo io sindaco nel mio piccolo ti dico quello che bisogna fare poi hai i posteri poi vediamo non è che ti possa ammazzare però intanto te lo dico te lo ti denuncio sperando che l'opinione pubblica prima o poi prenda coscienza della della dell'importanza di avere un mondo più pulito di un mondo meno avvelenato abbiamo i casi della vita la centralità dell'Umbria noi abbiamo in sala colui che nel 99 ha brevettato il CECRIF che è l'anticamera del Sistri e il dottor Massimo Bagatti che adesso fa il direttore dell'Ato Costa Toscano ed è era con me in Ampa perché abbiamo depositato il brevetto del CECRIF nel 99 ed è citato come l'inventore per cui se vorrà ragionarne ha direttamente l'accesso alla persona dritta ciò che è accaduto dopo ovviamente non ci compete più perché sono successe tante brutte cose ma lo strumento era utile e semplice per la tracciabilità dei rifiuti e il CECRIF lo brevettiamo nel 99 no l'informazione è fondamentale ed importante perché aiuta a far conoscere il fenomeno è dannosa quando diventa spettacolarizzazione ed è dannosa quando non tiene conto delle verità processuali e fattuali quindi quando si informa bisogna sempre stare attento e spesso noi suggeriamo che anche i giornalisti dovrebbero essere molto più cauti nella descrizione del fenomeno perché spesso siamo sono i media che purtroppo creano dei personaggi le faccio un esempio è brevissimo dopo la pubblicazione di Fratelli di Sangue che era un libro di storia su che è un libro di storia sull'andrangheta sono stati intercettati tantissime conversazioni alcune delle quali erano tra dranghetisti e in una uno diceva all'altro tu non conti niente perché non se neanche nell'indice del libro e questo significa che noi abbiamo una grande responsabilità su come descrivere e raccontare i mafiosi perché spesso certe figure vengono create proprio dalla spettacolarizzazione dell'informazione che tende ad usare termini come il super boss il super pentito il super latitante il mamma santissima questo e quest'altro e non fa altro che aiutarle le racconto brevissimamente un altro episodio nel 92 io ho pubblicato un libro negli Stati Uniti intercetto una conversazione uno un dranghetista dice ad un altro lo dobbiamo ammazzare lo dobbiamo ammazzare e questo qua dice ma perché lo dobbiamo ammazzare che ti ha fatto risposta mi ha sbagliato il nome questo vedete sono responsabilità importanti perché spesso noi da 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 gente che che ha poco peso lo facciamo lo facciamo diventare potente e quindi temuto e allora bisognerebbe cambiare anche il linguaggio della comunicazione soprattutto in riferimento alle mafie finito fatto lo abbiamo fatto grazie